Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui con Metal Gear Solid 5 Riprendiamo da dove c'eravamo lasciati, se vi ricordate bene ragazzi dovevamo recuperare per l'appunto sta roba Ovvero il Looney B Dunque allora fatemi da un'occhiata, motorbase, sviluppo, risorse, gestione staff, gestione della base Allora sta roba qua purtroppo ragazzi l'ho tutta quanta bloccata perché servono per l'appunto materiali e quant'altro Database, enciclopedia, documentazione, risorse, sviluppo, armi e oggetti Allora mi volevo, ecco per l'appunto la pistola silenziata me la volevo potenziare Quindi livello di unità di ricerca 7 Ok quindi ok Aspetta mannaccia la miseria, volete vedere che non l'ho manco bigliata mo? Aspettate un po' una cosa, mo com'è che si fa per l'appunto a prendere l'arma che avevo preso? Mannaccia la miseria, mannaccia allora armi e oggetti, equipaggiamento spalla Allora armi e oggetti Richiede il lancio Si richiede il lancio di questa Allora aspetta prima di lanciare per l'appunto questa qua facciamo così usciamo fuori E mi faccio mandare per l'appunto questa qua Dunque allora facciamo così tu che sei ancora qua mo te lascio Andà via ecco qua perfetto attaccatelo e portatelo via perfetto Mentre noi richiediamo per l'appunto la pistola silenziata Eccola qua quindi me la faccio spedire qui adesso ok Quindi finalmente sono riuscito tra virgolette a vedere più o meno quello che era la nostra pistola silenziata molto più avanzata E vedere anche un attimino come comportarci per l'appunto a trovare sto benedettissimo armamento Insomma che da quello che ho capito mi sa che dovrebbe essere quasi un bazooka O un lancia Un lanciamissimi Non lo so raga non lo so vediamo No ve caro eh Vedi che io so qua eh Mi raccomando attenzione ai piedi mia però eh Eh Attenzione Attenzione Papaffete E ok Perfetto Allora vai trase Olè perfetto Ottimo Allora ci abbiamo questa qui Ok Ottimo perfetto Dunque questa qui è molto Ah torcia tattica Ma credo che la torcia Ah ok perfetto Allora dunque da quello che ho capito se non mi Se non vado errato quella roba dovrebbe essere più o meno da qualche parte Allora io Allora qua innanzitutto ci abbiamo diamanti quindi recuperami i diamanti Vediamo un po' se l'istinto non mi inganna Dovrei andare per l'appunto di O di qua o dall'altra parte Non lo so Aspettate Aspettate Allora se sono arrivato fin qua vuol dire che forse credo che ho trovato Ho trovato anche la strada No non è mai vero nella vita perché la strada per l'appunto non l'ho proprio trovata Ancora Ah l'ho trovata la strada Ma siete seri? Ho trovato per l'appunto la strada? Serio? Ehm Credo che forse dovrebbe essere da qui Credo ragazzi E non lo so Non lo so Credo forse di si Non ne sei tanto convinto e sicuro Ma credo che forse sia da qua La strada che dovremmo fare per l'appunto Ma non è che moda Qua ci stanno uomini Perché di sicuro erano tutti quanti allertati La scorsa volta Andiamo da qua Vediamo Non lo so ragazzi Sto andando a tentuni Sto tentando per l'appunto la sorte Per vedere per l'appunto se ci sta sta roba E credo che forse ho trovato per l'appunto la zona che interessa a me Non lo so ragazzi Proviamoci Sempre se non c'è gente Ma qua dentro eh Gira a destra Gira a sinistra Per vedere chi c'è Chi non c'è Oh 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 Credo che ho trovato una nuova zona Eh già Credo proprio di si ragazzi Allora di qua Credo che si esca fuori Ok Però La stanza che serve a me Do sta Sapete che non lo so Se Per l'appunto La stanza è questa O meno Ma dovrebbe essere questa Vabbè ma allora che fai Pegli per i fondelli Scusi Buon uomo E che cos'è Non è che forse sarà da qua dentro No perché da qua dentro qua non ci sta Niente Ma ho rifatto di nuovo lo stesso giro Eh ma mi sa proprio di si Allora guardiamoci bene intorno Guardiamoci bene intorno Perché di sicuro sarebbe Sarà da ste parti sta roba Andiamo un po' più avanti Andiamo a vedere di qua Che cosa ci sta Se ci stanno robe anche qua dentro Salve Buongiorno C'è nessuno Sono io L'uomo delle pulizie Che per me Ma Ho fatto Un giro a vuoto Quando boia Sono arrivato Ma che cavolo Ne so Ma che cacchio Ne so Cioè ma dai Ma sto posto è un labirinto Oh dai Non ditemi che mi sono perso Quando boia sta sta cassa Missioni opzionali No No qua niente Ma per forza da qua Raga dovrebbe essere Eh oddio Non per forza Per forza Quindi devo Sbirciare bene Da qualsiasi tipo di parte Aspettate allora Facciamo così Andiamo di sopra E andiamo a vedere Per l'appunto Se Ci sta magari Qualche altra entrata Qualche altra cosa Non lo so Vediamo da qua Raga che c'è Vabbè C'è nessuno Ma che fai Ma mi pigli Per i fondelli Sento gente Sento Mi sa gente Raga Ma mi pigli Per i fondelli Ma mi pigli Per i fondelli Aspettate raga Che qua c'è St'altra roba Ah 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 Un altro diamante Raro Vai Piglialo Eh ma allora Siete scemi nel cervello Scusatemi eh Ma come cavolo Ci faccio io Ad arrivare là Allora Innanzitutto Piglia sta roba E d'accordo E ok Perché questi qua Questa qua È roba comune Quindi Ok Aspettate che qua Ce n'è un altro Mannaccia Alla miseria Mannaccia A voi Oh raga È veramente Più complicato Del previsto Sto gioco Ma veramente Tanto tanto Complicato Allora Faccio così Se io me ne ritorno Da dove cavolo Ne sono Da dove ne sono venuto Per l'appunto Aspettate perché io Da qua non ci sono entrato Magari che forse Può essere anche di qua Cioè Può essere in ogni Buco Del mondo Sta roba Sapete Sì ma perché io Infatti raga Sento gente parlare Facciamo così Allora Ritorniamo da dove Cavolo Siamo venuti Perché io Se non mi sbaglio Mi sa che sono venuto Dal buco Da qua sotto Ok Quindi Io me ne ritorno Da qua Ah ma qua è chiuso Ma va Fan club Qua in pratica È chiuso Aspettate Un altro diamante raro Figlialo Ma da dove cavolo Sono venuto Ma si può sapere o no Cioè No dai ragazzi Cioè Ma è una cosa Veramente furtiva Questa Cioè È priva di senso Sta cosa Allora Aspettate Facciamo Così Vai Buttate da sotto Facciamo così Ritentiamo di nuovo La sorte raga Perché sta cosa Per l'appunto Dovrebbe essere Da Da qualche parte No Annaccia La miseria Allora Aspettate Diamante Un altro Diamante grezzo Non diamante raro Scusate Allora Facciamo così Se ci buttiamo da qua Proviamoci a buttare Da qua raga Ok E vabbè Però Che ho fatto Sto sempre qua Sto Giusto Esatto Direi quasi Di sì Sì Ragazzi Sto Per l'appunto Al punto Di partenza Cioè Buttiamoci Un'altra volta Qua sotto Che vi devo dire Ma è possibile Che non riesca A trovar Sta benedetta Ma perché Non riesco A trovarla Allora Allora Zitti 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 Guatti Guatti Facciamo così Visitiamo Zona Per zona Annaccia La miseria Cioè È più Complicato Del previsto Sto gioco Eh Cioè Trovare Una cavolo Di Di cosa Di quella È veramente Tanto difficile Raga Cioè che Non ci ho capito Un ciuffolo Di niente Dove Boia Se potrebbe Trovare Sta roba Andiamo Un'altra volta Da qua Andiamo Attentoni Di qua Cioè perché Mi sembra Proprio Alquanto Strana Sta roba Che cavolo C'è Qua sotto No Non è niente De che Allora Vediamo Buongiorno Salve Buon uomini Guardiamoci bene In giro Perché cacchio La devo trovare Sta roba No Voi che dite Allora Qua non c'è Niente Perché qua Di sicura Ecco Per l'appunto Qua esco fuori D'accordo Perché comunque Sia è la stessa Parte di qua È ok Però Se vado di qua Da qua Che faccio Esco fuori Quindi L'unica strada Che mi rimane Per l'appunto È sto roba Qua sotto Proviamoci Ma che cavolo Di stronzata È questa Ma dai Ma non ci credo Cioè ma mi pigliate Veramente per i fondelli Proviamo qua dentro Mannaccia La miseria È proprio Che non riesco A trovare Sta cavolo Di 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 Arma Eppure Secondo me Dovrebbe essere Da qua dentro Da dentro Ste parti Mannaccia La miseria Ma che cavolo Ma purtroppo Ma è possibile Che non riesco A trovare Sta roba Cioè raga Mi ci sono girato Tutte quante le stanze Ma non sono riuscito A trovare Sta benedetta roba Eh raga Che vi devo dire Eh non lo so Boh Cioè o so io Che so ignucco Che so scimo Che non riesco Capendo boia Sta sta roba Perché io Non la riesco Proprio a trovare Cioè se mi butto Da qua Non so manco Dove Dove cavolo Arrivo Credo che forse Sarà una zona Per poter scappare Per poter andare via E credo proprio Forse di sì Per l'appunto Credo che sarà Una strada Per potersene Scappare via Per potersene Andare via E vabbè raga Che vi devo dire Io concludo qua Questo nuovo appuntamento Di Metal Gear Solid 5 E voi mi raccomando Lasciate like Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Condividete questo video Per aiutare Seri Canale a crescere E niente Dai noi ci si becca In un prossimo video E se qualcuno di voi Magari vuol darmi una mano Può anche scriverlo Qui sotto qui Nei commenti E dirmi per l'appunto D'è che si trova Sta roba Ciao 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 ciao